Cosa vuol dire fare informazione, fare il nostro mestiere? Significa dare le notizie con molta onestà, con molto scrupolo, stando attenti a non pestare i piedi a persone che non hanno nessuna responsabilità, non hanno nessuna colpa, non hanno commesso alcun reato e quindi cercare di non rovinare la reputazione di qualcuno perché altrimenti incorriamo nel cosiddetto reatto di diffamazione a mezzo stampa. Siamo stati accusati di aver offeso delle persone della UL7 pedemontana, ma non è così. Noi abbiamo fatto semplicemente cronaca e le motivazioni della Cassazione che abbiamo appreso soltanto ieri confermano che di diffamazione nei nostri telegiornali non ce n'è mai stata. Sono i giudici della Cassazione che ribadiscono quello che aveva già detto il Tribunale del Riesame nel momento in cui aveva sospeso l'ordinanza che impediva al nostro azionista di maggioranza un'interdizione a lavorare. Gli impediva praticamente di svolgere la sua attività. Quindi noi siamo andati sempre nel solco della correttezza e del rispetto delle regole. Come avete sentito ha spiegato molto bene l'avvocato Maurizio Panis che difende l'ingegner Giovanni Iannacopoulos, il quale addirittura è stato accusato di minacce. E anche su questo la Cassazione conferma che di minacce non ce ne sono mai state. Non ci sono state intimidazioni, non ci sono state pressioni da parte di un uomo che non ha nessun interesse nella sanità se non quello di difendere i cittadini, di fare in modo che nel Bassanese la sanità funzioni, che ha avviato tante campagne sul sociale a difesa delle persone più umili, degli ultimi, degli ammalati. Quest'uomo nonostante la Cassazione abbia ribadito che non ci sono state intimidazioni, non ci sono state minacce, non c'è stata difamazione da parte nostra, di quest'uomo è stato chiesto il rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza. Ci sarà la prima udienza il 10 ottobre, noi aspettiamo di capire quali sono le colpe di un imprenditore che ha fondato un grande gruppo, che l'ha sempre gestito, che l'ha sempre mandato avanti, che non ha mai fatto dei torti a nessuno del territorio. Vogliamo capire come sia possibile che sulla base di voci, di insinuazioni, di congetture, un imprenditore del valore dell'ingegnere Giovanni Gianacopoulos, ha 82 anni, che con il figlio Filippo ha avviato un'impresa di grandi dimensioni e di grandi fortune, vogliamo capire per quali motivi debba finire in un tribunale. Noi, nonostante quello che sta succedendo, con titoli su tutte le pagine di giornali, andiamo avanti con il solito scrupolo, la solita attenzione, la solita attenzione soprattutto per le comunità. Non ci fermeremo e non ci fermeranno.